Grazie a tutti i nostri sponsor, in particolare alla Compagnia San Paolo, all'Associazione Educazione, Prevenzione e Salute che da anni organizza queste conferenze, a tutti i nostri medici, a Rete7 che al giovedì e la domenica sul canale 12 alle 10, 10 in quarto, l'IDID trasmette. Oggi si parlerà delle valvole in una popolazione che invecchia. Con noi abbiamo proprio i maggiori esperti della cardiologia piemontese, il professor Gaita, il professor Rinaldi e Modera Sebastiano Marra. Alla parola proprio al dottor Marra. Allora, buongiorno a tutti, è un piacere vedere sempre questa sala affollata. L'arriamento di oggi è legato a quanto sta accadendo nella nostra società. Noi stiamo, come dire, vivendo una realtà di invecchiamento della nostra popolazione, che è una cosa bellissima per certi versi, perché come vedete, tra virgolette, è positivo che ci possa essere un invecchiamento. Il vero problema è che manca ringiovanimento. Vedete che l'anno 2015 la stima dei residenti, tra virgolette, in termini di incremento, nel Piemonte è quasi meno 5%, quindi qualcosa si sta riducendo nell'apporto, chiamiamolo, di natalità. E, come vedete, la mortalità, anche se parliamo, sono dati istata, di due anni, uno in fila dell'altro. Vedete che le donne migliorano di qualcosa, gli uomini migliorano di qualcosa, con un gap, come vedete, di circa 7-8 anni a favore delle donne. E, sempre dati dell'Istat, vedete come tra il 2007 e il 2017, quindi mettiamo, sono 11 anni circa, i cosiddetti 65 anni o più, e 65 non è più considerato un'età così, tra virgolette, tremenda, però abbiamo un 22,3% di incremento, sono i numeri, sono 2 milioni circa di individui in più. Lasciamo perdere i novantenni, che comunque ci fa piacere vedere che incrementano in modo decisamente. D'altra parte, guardate la bella notizia, 2015-2016, 6% in meno di mortalità in Italia, vuol dire che abbiamo avuto circa 40.000 in meno decessi, e la vita media, quindi, guardate, per gli uomini, è cresciuta in un anno di un mezzo anno. Bene, è positivo. Per le donne, qualcosa di più. Comunque, vedete, uomini e donne aumentano in termini di probabilità di vita. Questo ci pone un problema. L'invecchiamento porta a degenerazioni strutturali nell'ambito cardiaco, le valvole cardiache sono quelle che ne risentono, uno pensa sempre alle coronari, alle coronari, alle coronari, oppure le valvole identifico come malattia, cos'è, reumatica, ma ormai negli ultimi anni si è capito che la degenerazione è il vero grande problema. Guardate qua, proprio per il Piemonte, date il Piemonte, vedete, gli individui che hanno, tra virgolette, più di 65 anni, che nel 2002 erano il 21% e qualcosa, adesso sono il 25%. Quindi, questo problema, un quarto della popolazione ha questo tipo di atteggiamento. Allora, viene fuori il problema. Cosa facciamo? La popolazione è estremamente fragile, estremamente complessa da trattare. Quando usare il catetere? Quando usare il bisturi? Vedete, questo è servito a noi cardiologi ad affinarci. Ai cardiochirurghi è servito a fare delle cose sempre più precise, raffinate, attente. Insomma, tutto questo è al servizio di una popolazione che è quello che è, sta invecchiando. Grazie dell'attenzione. Sì, cominciamo col fronte cardiologico. Nel 2008 abbiamo cominciato questo intentismo sulle valvole, proprio io ho fatto due casi, e adesso il professor Gaita, che è il direttore della catetere di cardiologia, ci dirà come sta andando, come sta evolvendo, quello che è il trattamento delle valvulopatie dell'anziano. Grazie, Fiorenzo. Buongiorno a tutti. Grazie a Nuccio per questa presentazione che ci ha fatto con quello che sta succedendo favorevolmente in tutto il mondo, ma soprattutto in Italia. Nuccio ci ha ricordato che immediatamente dopo il Giappone, in Italia si vive bene, almeno in termini di durata della vita. Siamo la popolazione più longeva al mondo immediatamente dopo i giapponesi. Abbiamo visto quanti di noi, quasi un milione di persone, riesce a superare oggi tranquillamente gli 80 anni, e abbiamo visto come anche la fascia dai 65 agli 80 tenta ad aumentare. Possiamo vivere in eterno? Beh, no. Non possiamo vivere in eterno perché in realtà il nostro corpo si usura. La prima parte che si usura sicuramente di più è che tutti quelli che hanno superato i 50 anni conoscono bene è l'apparato osteoarticolare. Cominciano i dolori alle ginocchia, all'anca, diventa più difficile stare in piedi e così via. La parte che si consuma, per fortuna di meno, che possiamo riparare di più, è invece il cuore. E sicuramente il cuore è l'organo più generoso che abbiamo. Pensate che batte circa 100.000 volte al giorno e noi non ce ne accorgiamo neanche. Però sono 100.000 battiti tutti i giorni. 100.000 battiti che coinvolgono che cosa? Il cuore come muscolo di per sé stesso, ma il cuore è costituito da muscoli e da arterie che gli portano il sangue e da valvole che regolano il passaggio del sangue. Oggi di che cosa parliamo? Parleremo soprattutto di come queste valvole, ed una in particolare la valvola ortica, che è quella che permette il passaggio del sangue dal muscolo vero e proprio a questo grande tubo che poi porterà il sangue arterioso al cervello, alle gambe, ai reni, a tutti quanti i nostri muscoli, batte circa 100.000 volte ogni giorno. E' chiaro che cosa potrà succedere? Che 100.000 volte ogni giorno, per un anno, per 80 anni, questa valvola potrà tendere ad essere meno funzionale. Che cosa può succedere? Può succedere, questo avviene più o meno nel 5% della popolazione normale, che la valvola ortica si ristringa. E se si restringe, come ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo essenzialmente con tre sintomi fondamentali. Andiamo all'inverso, passiamo dal basso. La prima cosa, ce ne accorgeremo perché ci manca il fiato. E qui per il medico, ma anche per il paziente, è un enigma molto grosso da risolvere. Quanta è la mancanza di fiato legata al fatto di avere 80-85 anni? Quanta è invece la mancanza di fiato legata al fatto che arriva ai muscoli meno sangue e quindi per questo mi sento più stranco. Molto spesso il dilemma viene risolto con l'aiuto della visita cardiologica, di esami quali l'elettocardiogramma e soprattutto l'ecocardiogramma ci permette di capire molto di più. Ma ripeto, è il sintomo più difficile da interpretare. Mentre molto più facile sono gli altri due sintomi. Salendo sempre dal basso verso l'alto, se la valvola che regola il passaggio del sangue dal cuore al resto dell'organismo è stretta, qua devo fare una premessa, il cuore è un organo talmente generoso che dei 5 litri di sangue che gli passano all'interno ogni minuto non ne prende neanche un po'. Lo espelle, lo manda nella horta e riceve sangue poi da due tubicini che noi chiamiamo coronaria destra e coronaria sinistra per quella che è la necessità di sangue per poter dare 100.000 colpi ogni giorno. Bene, se la horta è molto serrata potrebbe arrivare poco sangue alle coronarie e quindi poco sangue rientra per nutrire il cuore e soprattutto sotto forzo compare l'angina. Quell'angina che noi colleghiamo nella stragrande maggioranza della popolazione al fatto che le coronarie sono malate nel caso del malfunzionamento della horta non è questa la causa ma proprio il fatto legato che poco sangue esce dalla horta poco sangue va nelle coronarie sotto sforzo quando il cuore ha bisogno di più sangue gliene arriva poco e da qui quel dolore costrittivo al centro del petto. Poi il sintomo invece più chiaro più evidente è quando arriva poco sangue al cervello sempre la valvola ortica ristretta quindi poco sangue al cervello faccio uno sforzo e svengo. Beh questo e se arriviamo a questo livello ci vuol poco per la diagnosi perfetta quindi possiamo passare poi all'eventuale terapia. Il problema quindi l'abbiamo vista la stenosi valvolare ortica è la più frequente delle patologie valvolare acquisite. ce l'hanno più o meno il 4-5% dei pazienti con oltre 75 anni e il dottor Marra ci ha fatto vedere molto bene come l'aspettativa di vita media si è notevolmente aumentata in tutti questi anni quindi aumenta la percentuale di popolazione affetta da questa patologia. Qual è la terapia gold standard? Non ci sono dubbi la terapia medica può aiutare un pochettino ma in questi casi bisogna togliere questa istruzione come si può fare? Si può fare in due maniere prima in passato soltanto con la chirurgia la chirurgia la cardiochirurgia tradizionale oggi invece anche con l'apporto di altre tecniche che noi chiamiamo interventistiche e che condividiamo tra cardiologi interventisti e cardiochirurgo ed ecco qui il perché della nostra presenza tutti e tre allo stesso tavolo. il quesito è tutti i pazienti con valvulopatia aortica possono essere sottoposti ad una chirurgia tradizionale che sicuramente è il gold standard della terapia. Ascoltavo poc'anzi il professor Rinaldi che rispondeva ad una intervista e il professor Rinaldi nella sua esperienza giustamente ricordava che cosa che fino a vent'anni fa i pazienti operati chirurgicamente con età superiore agli 80 anni rappresentavano meno del 5% della popolazione degli operati oggi rappresentano invece la stragrande maggioranza dei pazienti quindi la chirurgia si rivolge di più in più anche al paziente più avanti nell'età però l'età spesso è associata ad altre comorbilità comorbilità che possono in qualche maniera a volte rendere l'intervento cardiochilurgico tradizionale troppo pericoloso quali sono le comorbilità la comorbilità più importante è quando il rene comincia a non funzionare bene quando abbiamo l'insufficienza renale cronica quando abbiamo l'insufficienza renale cronica il paziente corre più rischi in generale per qualsiasi tipo di patologia che sia questa coronarica che sia questa valvolare l'altra cosa che limita a volte lo spazio al cardiochilurgo è quando c'è un polmone che funziona molto male la broncopneumopatia cronico-ostruttiva bene in questi casi il rischio chirurgico in alcuni casi selezionati può essere troppo alto e allora è il momento in cui cardiochilurgo e cardiologo interventista discutano tra di loro per scegliere altre opzioni per questi pazienti applicando questi criteri sappiamo che circa un terzo della popolazione over 80 anni non è operabile in termini di rischio e circa 15 anni fa un cardiologo interventista Chiribier ha inventato questa tecnica di cui vi parleremo in parte oggi che vi presenterò io e poi vi ripresenterà ancora il professor Rinaldi oltre a quella tradizionale che è quella di sostituire una valvola non con un intervento tradizionale ma attraverso una valvola montata su un catetere che arriva all'interno del cuore e viene dilatata al posto della valvola anatia è molto simile lì come intervento ma fatto in dimensioni più grandi a quell'intervento che tutti quanti voi conoscete l'angioplastica coronarica e l'applicazione dello stent solo che invece di trattarsi di un piccolo stent di pochi millimetri qui si tratta di una valvola di qualche centimetro queste sono le valvole che vengono voi le vedete aperte sono quelle che sono state applicate all'ospedale Molinetta io lo chiamo ancora Molinetta oltre che città della salute e della scienza in questi circa dieci anni ne abbiamo di vari tipi abbiamo quelle che montate sul catetere arrivano su questa valvola molto ristretta e si auto espandono da sole ne abbiamo delle altre invece che devono essere espanse con grazie un pallone quindi molto molto simile a quello che viene fatto per un'angioplastica coronarica e i disegni possono essere estremamente differenti però tutti riproducono l'aspetto della valvola aortica normale cioè con tre cuspidi aortica questa è l'esperienza della città della salute e della scienza che abbiamo condiviso insieme al dottor Marra e al professor Rinaldi in questi anni sono stati impiantati con questo nuovo sistema 357 pazienti e guardate l'età media 83 anni erano pazienti non candidati alla chirurgia tradizionale queste sono stati la sopravvivenza ad un anno con questo sistema quindi l'84% fa una vita e una vita senza più quei sintomi mentre questo è ricavato da uno studio la sopravvivenza nei pazienti che eventualmente non sono andati incontro a nessun tipo di intervento chirurgico o di chirurgia interventistica e anche quando andiamo a vedere a distanza uno potrebbe dire sì però guardate questa curva a tre anni il 50% dei pazienti in ogni caso è mancato ne sono vivi soltanto il 57% a tre anni dobbiamo considerare però l'età dei pazienti è una paziente una popolazione di età superiore agli 80 anni abbiamo visto 82 anni e abbiamo garantito a oltre il 50% di questi pazienti ancora una sopravvivenza a tre anni una sopravvivenza chi manca una diapositiva una sopravvivenza che si accompagna non solo alla maggior durata della vita ma soprattutto anche ad una migliore qualità della vita quindi alla scomparsa della mancanza di fiato alla scomparsa dell'angina da sforzo alla scomparsa degli svenimenti e vediamo se riesco a far partire adesso questo video vi vorrei presentare abbiamo chiesto insieme al dottor Moretti e al dottor D'Amico che sono quelli che nel nostro istituto si occupano dell'impianto insieme ai cardiochirurghi di questo tipo di procedura grazie D'Amico oltre che far Natavi mi fai partire questo video grazie abbiamo chiesto a questi due pazienti un po' di raccontarci la loro esperienza adesso li vedremo purtroppo il video non funziona questa è la signora Caterina 85 anni che cosa ci racconta ci racconta che le mancava il fiato e fin qui va bene non riusciamo a capire e soprattutto il suo medico di famiglia i suoi familiari non riuscivano a capire se era mancanza di fiato legata agli 85 anni o le valvole ma poi ha avuto anche il dolore al petto il suo medico ce l'ha inviata questa è l'altra signora la signora Maria anche lei 82 anni accudisce il marito 90enne vivono da soli stessa identica sintomatologia bene questi pazienti critici che sia per età sia per altre patologie in un caso l'insufficienza renale nell'altro caso la broncopneumopatia sono andati incontro all'impianto di questo tipo di valvola per via percutanea vediamo qui una movie come funziona il tutto la valvola è montata sulla punta di un catetere risale in questo caso tramite la orta minimo rischio le calcificazioni della orta a questo livello bisogna cercare di passare e non mobilizzare queste calcificazioni questo video ci mostra in realtà una valvola più dilatata più larga di quello che nella realtà a volte avviene a volte è difficilissimo far passare anche il piccolo filino che noi chiamiamo filo guida per introdurre poi per portare avanti tutta quanta la valvola la valvola viene rilasciata in sede aortica e questa è una valvola self expandable quindi fa tutto da solo non dobbiamo gonfiare grandi cose si espande piano in pianetto e va a sostituire a allargare la valvola nativa e quindi cosa abbiamo fatto in una finestra in una porta che non funzionava ristretta ne abbiamo impiantata un'altra un po' più piccola ma che funziona bene questo è un impianto fatto in uno di questi pazienti in questo caso è stato selezionato un approccio particolare che vi dimostrerò questo è il catetere che il dottor Moretti e il dottor D'Amico usano per questo tipo di procedura insieme al dottor Salizzoni in questo caso per facilitare l'accesso alla valvola si è partiti non dal basso dall'inguine dalla femorale ma con un approccio che insieme ai cardiochilurghi abbiamo evidenziato come sia più facile più compliante che quello a scellare quindi isolata l'arteria a livello dell'ascella il catetere con la valvola montata viene introdotto qui quindi all'altezza molto alta a pochi centimetri a 20-25 centimetri dal luogo dove la valvola dovrà essere impiantata e grazie alla fluoroscopia vediamo avanzare il catetere c'è un filo guida che ci permette di usare questa lunga spada con tranquillità il filo guida è all'interno del ventricolo di sinistra la punta del catetere con la valvola e tra poco vedremo la valvola che si sta questa retina che prima sembra un tulipano rovesciato e che tra poco si autoespanderà assumendo la forma di una clessidra vedete bene le maglie metalliche che prima erano compresse e si sono dilatate e all'interno di questa struttura metallica è localizzata la nuova valvola qui per continuare no ci fermiamo qui se abbiamo un attimo di tempo vi parlerei anche di un altro approccio oltre alla valvola della ortica e questo è un approccio molto più limitato è un approccio che oggi è prettamente di interventistica cardiochirurgica e il professor Rinaldi è uno dei massimi esperti nazionali a questo riguardo sostituendo questa valvola oggi già non aprendo il torace ma con delle tecniche laparoscopiche però anche in questo caso ci sono dei rari pazienti con dei rischi talmente alti per cui il cardiochirurgo preferisce gestire la la riparazione di questa valvola che chiamiamo valvola mitralica con un sistema intervettistico non cardiochirurgico ma misto cardiologo e chirurgo la valvola mitrale è quella che permette il passaggio del sangue dal serbatoio del cuore che è l'atrio al motore vero e proprio che è il ventricolo di sinistra normalmente viene riparata dal cardiochirurgo però ci sono delle situazioni queste quando c'è lo scompenso cardiaco un cuore dilatato sfiancato da patologie o da altre cose il cuore tende a dilatarsi tendendo a dilatarsi il ventricolo tende a dilatarsi si dilata anche l'anello valvolare su cui è appoggiata questa valvola questo determina un'insufficienza di questa valvola che non si chiude più bene e questo determina un peggioramento di tutta quanta la situazione è una procedura molto più limitata il nostro esperto per questo tipo di responsabile di questo tipo di procedure del dottor Moretti alle molinette questi sono i risultati di 56 impianti eseguiti dal 2012 quando abbiamo cominciato a occuparci scusate l'ho chiamato impianto in realtà è una tecnica molto semplice una clips che tra poco vedremo viene introdotta nel cuore sotto guida prettamente ecocardiografica e radiologica e permette in qualche maniera di riparare questa valvola guardate qui la riduzione dei farmaci principali che si danno nei pazienti il nasis il diuretico dopo questo tipo di impianto il paziente sta meglio e possiamo ridurre anche i farmaci vediamo se riusciamo questa volta a far girare il video richiamiamo ancora Moretti che oltre a mettere la valvola fa girare bene i video abbiamo promesso di farlo conoscere credo che basti no? allora questa clipsa viene introdotta attraverso un catetere che passa da una vena e che va nell'altro di sinistra viene fatto con un ago un buchicino tra i due atri quello che chiamiamo setto interatriale tutto questo sistema viene introdotto nella parte sinistra del cuore in questo caso viene mandata la clipsa fino al livello del ventricolo dopodiché la clipsa viene aperta e è una vera scena di pesca bisogna riuscire a pescare questi due lembi della valvola mitrale in una certa posizione bloccarli con questa clipsa e trasformare quella che prima era un enorme buco che lasciava rifluire il sangue dietro in una duplice cavità più ristretta a differenza dell'altro intervento un intervento che richiede pochissima esposizione radiologica questo tubicino che vedete qui è un ecotransesofageo messo nell'esofago e che permette di darci queste immagini che guidano i nostri operatori come vedete è tutto un gioco di squadra quindi sono coinvolti in questo tipo di procedura professionalità cardiologiche differenti quindi cardiologi che si occupano di eco cardiologi interventisti questa è la clips che verrà impiantata cardiochilurgo che in ogni caso è sempre presente anche nella sala di emodinamica e con cui tutti questi casi vengono sempre previamente discussi questo è il marchigegno con cui viene introdotta la clips insieme al dottor Moretti il dottor Montefusco è l'altro grande artefice di questa procedura perché una delle cose fondamentali per eseguirla e eseguirla bene è fare nel punto giusto questa puntura transettale il dottor Montefusco da noi è una persona che è stata ben addestrata a fare questo tipo di approccio come vedete da in basso tutto viene gestito dall'esterno in questo caso sotto l'aspetto fluoroscopico c'è un altro catetere all'interno che cos'è questo catetere è il catetere di un defibrillatore questi pazienti spesso oltre ad avere la valvola malata hanno un grossissimo rischio di morire all'improvviso e sono portatori di un apparecchio che si chiama defibrillatore e questo guardate la valvola vista all'eco tridimensionale riusciamo grazie alla tecnologia a rivedere quasi quello che vede il professor Rinaldi e qua il paziente che dopo aver fatto questo tre giorni dopo se ne va a casa grazie tantissimo per la vostra attenzione grazie Fiorenzo direi che è estremamente lucido come si dice il quadro in cui ci dibattiamo nelle patologie della valvola mitrale e della valvola ortica adesso il professor Rinaldi dunque il professor Rinaldi in questi dieci anni quando nel 2008 si è cominciata a fare l'interventismo si è tra virgolette posto il problema come faccio con alcuni pazienti troppo tra virgolette defedati o troppo a rischio di fare un intervento per cercare comunque di migliorargli la qualità e la durata della vita questo ha fatto nascere la cooperazione per cui i pazienti per esempio li scopre il cardiochirurgo li manda al cardiologo scopre il cardiologo li manda al cardiologo questo è il lavoro di echipe che si chiama l'art team ed è questa la cosa con cui siamo andati avanti fino adesso adesso il professor Rinaldi che comunque in questi anni ha sempre più raffinato le sue capacità tecniche che sono già brillanti ma come dire ognuno cerca sempre di migliorare se stesso e ha veramente con dei risultati eccellenti vi dirà come la mini invasività la ridotta invasività può permettere di fare degli interventi che forse una volta non si potevano fare grazie Mauro grazie grazie Lucio grazie a Fiorenzo Gaeta allora gli interventi sulle valvole cardia che rappresentano gran parte del nostro lavoro quotidiano parlerò prima della valvola ortica e poi un pochettino della valvola mitralica quando una procedura ha successo come dice sempre il professor Gaeta non c'è bisogno di grossi studi basta vedere quanto quante applicazioni ha nel mondo questi sono interventi questo è il mercato americano su Giamma il numero di interventi sulla valvola ortica vedete che sono andate aumentando esattamente un più 21% dal 99 al 2011 con numeri veramente veramente notevoli e la cosa ancora più interessante è che è andata sempre più diminuendo la mortalità stiamo parlando di centinaia di migliaia di sostituzioni valvola ortiche classiche con la tecnica cardiochirurgica classica che poi vi farò vedere vedete che la mortalità si è andata riducendo questa prima linea rappresenta dati degli anni 90 questa seconda degli anni 2000 vedete là dove c'è la stellina vuol dire che la riduzione è significativa notate che proprio nella categoria dei più anziani 85-90 anni c'è stato il migliore come dire miglioramento dei risultati con una netta diminuzione della mortalità questo proprio perché abbiamo imparato a essere meno invasivi in questa categoria di pazienti e poi vedremo anche perché una fetta di questi pazienti che hanno un rischio operatorio troppo alto oggi li trattiamo in maniera estremamente efficace come vi ha dimostrato il professor Gaita con metodiche cosiddette trans-cathetere perché la popolazione e questa è la stessa popolazione che avete visto prima sottoposta in Nord America a sostituzione a nord-aortica vedete che in questi anni è aumentata la comorbidità vedete i pazienti sempre più obesi con problemi di diabete con problemi di malattia respiratoria con problemi vascolari quindi sappiamo che queste sono le linee guida solo per dirvi che la sostituzione a nord-aortica è raccomandata per via chirurgica in tutti quei pazienti che hanno una tenosi aortica grave che hanno sintomi e queste sono le cosiddette raccomandazioni ultimamente queste raccomandazioni sono state sono state come dire modernizzate introducendo in queste raccomandazioni generali anche il concetto delle procedure trans-catetere vedete in pazienti è sempre una raccomandazione di grado 1 in pazienti ad alto rischio chirurgico è raccomandata la procedura trans-catetere quella che vi ha fatto vedere pochi minuti fa il professor Gaita quindi un'altra cosa che volevo farvi vedere è che dopo avere sostituito la valvola anche questi pazienti molto anziani hanno una durata di vita e una qualità di vita molto buona questi sono pazienti sottoposti a sostituzione a ortica o associazione di a ortica più bypass a orto coronarico vedete una sopravvivenza qui siamo a 15 anni superiore al 50% e vedete che se voi questo è un lavoro molto interessante se voi prendete questi pazienti più anziani con comorbidità e matchate la loro storia clinica dopo avere sostituito la valvola con pazienti con persone normali che non hanno una patologia cardiaca vedete che fino almeno a 8 anni di distanza non c'è differenza di mortalità fra i due gruppi solo dopo 8 anni abbiamo una certa qual divaricazione delle sopravvivenze questo vuol dire che la sostituzione della valvola ortica restituisce in gran parte a una vita normale per molti molti anni lasciamo stare queste cose me l'hanno fatta un po' troppo complicata comunque l'altra cosa molto interessante è che grazie allo sviluppo di queste tecnologie transcatetere che sono tecnologie molto costose molto più costose di quelle tradizionali anche noi cardiochirurghi abbiamo scoperto che c'erano modi più semplici di attuare una sostituzione valvola ortica utilizzando delle nuove valvole che non hanno bisogno di essere suturate e qui vi mostrerò qualcosa al riguardo questa diceva il professor Gaeta vi ha fatto vedere e anche io ho cercato di mostrarvi sia con la procedura transcatetere che con la procedura chirurgica che la quantità di vita riacquistata è notevole ma ancora più importante della quantità è la qualità questo è un lavoro che viene dalla Mayo Clinic vedete che queste barre che vedete sono test sulla qualità di vita è un sistema SF36 è un sistema questionario somministrato ai pazienti che vuole misurare la qualità di vita vedete che fra la popolazione generale e la popolazione invece che ha sostituita la valvola ortica che è la barra grigia e l'ha sostituita dopo gli 80 anni non vi è nessuna differenza significativa di qualità di vita vuol dire che quelli operati stanno altrettanto bene rispetto alle persone sane e questo è molto molto importante come ci comportiamo noi oggi alla città della salute e della scienza abbiamo sostanzialmente una una situazione di questo genere in pazienti giovani con rischio normale non c'è nessun problema la chirurgia può essere fatta secondo la tradizionale sternotomia ci sono cardiochirurghi che non amano le procedure mini invasive che però fanno degli interventi altrettanto buoni voglio dire in questa categoria di pazienti si può fare una chirurgia standard con sternotopia completa e circolazione estracorporea poi ci sono invece dei pazienti ad alto rischio in cui bisogna discutere l'approccio nell'ambito di un cosiddetto art team cioè cardiologi cardiochirurghi e cardioanestesisti discutono quale sia la procedura che meglio si adatta a questo paziente la procedura transcatetere è sicuramente per i pazienti più compromessi io cercherò di parlarvi delle altre procedure che cosa sono beh innanzitutto non apriamo più lo sterno almeno noi nel nostro centro già da molti anni e anche nelle altre cardiochirurgie si stanno avvicinando a questo target vedete non facciamo più una sternotomia completa facciamo delle piccole incisioni in genere solo il manubrio dello sterno ancora meglio evitando proprio di sezionare alcun osso la procedura minitoracotomica vedete qui una piccola finestra nel secondo spazio intercostale l'altra cosa abbiamo cambiato radicalmente la vecchia macchina cuore polmone e utilizziamo un sistema cosiddetto di mini check è un sistema integrato che vedete molto più semplificato che evita l'interfaccia fra sangue e aria e quindi evita tutto lo scatenamento di una serie di reazioni infiammatorie che sono quelle che fanno male al paziente e inoltre abbiamo vedete delle valvole queste sono le valvole come dire di vecchio concetto vedete che qui c'è un colletto una rima dove queste valvole vengono suturate in realtà le valvole che utilizziamo per queste procedure mini invasive sono queste valvole che sono valvole cosiddette suturless cioè senza necessità di sutura le inseriamo all'interno dell'anulus dopo aver rimosso la valvola nativa vi farò vedere qualcosa e le espandiamo in maniera che sia molto più semplice molto più semplice posizionarlo vi faccio vedere cosa intendo dire questo è un intervento che abbiamo fatto con l'ausilio anche di questi google glass che ci hanno aiutati in una serie di manovre che poi vi farò vedere questa è una paziente questo è un paziente anziano che aveva appunto una certa comorbidità vedete la sala operatoria è un ambiente molto affollato dove ci sono molte figure l'approccio mini-invasivo che vedete questo era un maschio settantenne vedete questa è l'incisione sono 4 cm secondo spazio intercostale si fa tutto da questa fessura senza necessità di divaricare le coste abbiamo un toracoscopio che inseriamo qui vedete che ci dà quelle immagini sul monitor e di fatto si può operare interamente guardando queste immagini attualmente questi qui sono immagini tridimensionali quindi noi mettiamo gli occhialini come nei videogames e si ha una perfetta visione tridimensionale della valvola così che non è necessario vedere direttamente la valvola ortica vedete come è una valvola ortica stenotica vedete gravemente calcifica noi a differenza delle Tavi questo calcio lo togliamo credo che questo dia un vantaggio quando la sopravvivenza del paziente è per lungo tempo quindi togliamo questa questa valvola malata poniamo alcuni alcuni suture e poi vedete con questo vecchio questo è un filmato che ha già qualche anno con questo vecchio tipo di valvola dovevamo filo per filo passarlo all'interno della valvola che poi veniva catapultata giù e a quel punto dovevamo legare le suture e qui viene il difficile perché da lì non si passa neanche con un dito c'è tutto un sistema di ancoraggio a distanza e si tratta di tecniche come dire mini invasive che richiedono una una tecnologia adatta anche all'annodamento questo è un altro caso ad esempio in cui andiamo un po' più veloce in cui vi faccio vedere come alla fine facciamo vedete si passano questi punti è abbastanza indaginosa questa tecnica sicuramente non adatta a tutti i chirurghi in tutte le situazioni solo ai chirurghi più esperti vedete la valvola passa malapena dal buco che facciamo per entrare dobbiamo quasi piegarla per farla entrare perché non c'è spazio un'incisione di questo tipo per evitare questa laboriosità che ci vedete faccio fatica all'introduzione dopodiché per fissare questi fili abbiamo all'industria ideato un sistema di ancoraggio che adesso vi faccio vedere una piccola clip metallica che viene calata dentro e che chiude il filo in maniera che non dobbiamo annodarlo veramente quello che vi faccio vedere invece è la differenza con un sistema che sono queste valvole sutureless che non hanno bisogno di quei fili che avete visto per fissarle questo è un altro caso in cui vedete togliamo con la stessa esatta metodica la valvola ortica e al posto di annodare vedete si può decalcificare perfettamente la valvola in maniera ad avere un campo chirurgico estremamente pulito si fa il sizing qui dobbiamo mettere una valvola di una certa grandezza poi si passano tre fili esattamente al nadir della commissura uno due e tre e su questi fili si fa scorrere una valvola che si apre come un fiore come ha detto giustamente il professor Gaeta è proprio così il concetto l'apertura di questa valvola all'interno di un anulus che abbiamo accuratamente accuratamente pulito questa è una valvola fra l'altro prodotta in Italia dalla Sorin si può dire che sta poco lontano da qua vedete come si apre spontaneamente da sola e si posiziona perfettamente al livello della valvola nativa dopodiché la espandiamo con un palloncino per essere sicuri che aderisca perché poi tutti i fili vengono sfilati rimane lì agganciata grazie alla sua forza radiale sappiamo che con questa con questo tipo di valvola è possibile addirittura evitare quell'incisione che io faccio e realizzare una sostituzione valvola-ortica in maniera puramente toracoscopica questo gruppo francese l'ha già fatto vedete con uno due tre quattro piccoli incisioni di meno di un centimetro per ciò che riguarda la valvola mitralica l'approccio è simile anche qui abbiamo ormai abbandonato la sternotomia tradizionale vedete che qui l'incisione per la valvola ortica viene fatto qui sopra secondo spazio intercostale qua per la valvola mitralica viene fatto nel quarto spazio intercostale un po' più lateralmente questa è la nostra la nostra tipica incisione in altri centri vengono utilizzati anche device più complessi tipo un robot operatore un sistema robotico che rende ancora meno invasiva la procedura questa è una chirurgia molto specialistica che nel corso degli anni noi abbiamo sviluppato qui con un andamento sempre crescente di interventi vedete ogni anno aumentano adesso nel nostro gruppo ci sono almeno quattro persone interamente autonome in questa chirurgia e di fatto quello che è successo nell'arco dei miei dieci anni qui è che abbiamo sostanzialmente azzerato il numero di approcci open la stragrande maggioranza il 90% e oltre di questi interventi vengono eseguiti in maniera toracoscopica senza necessità di segare lo sterno cioè la vecchia sternotomia che vedete ancora in giro fatta da tanti da noi è praticamente abbandonata come si vede da questi dati questo ci consente ugualmente vedete questo è un dato molto importante la percentuale di riparazione ci consente ugualmente di essere molto efficaci la valvola mitralica può essere riparata in oltre il 90% dei casi si può evitare la sostituzione anche in pazienti parecchio anziani e vi faccio vedere come questo è l'approccio vedete al posto di fare l'incisione là sopra questa incisione viene fatta nel quarto spazio intercostale questa è una giovane donna per la verità fra l'altro nella donna è molto estetico perché risiede esattamente nel solco sottomammario che poi scompare completamente vedete che utilizziamo un toracoscopio che ci serve anche in questo caso per avere delle immagini non sempre si riesce a vedere direttamente quello che si fa questo è il cuore utilizziamo solo questo divaricatore che è un soft tissue è un divaricatore di tessuti molli nessun retrattore per non traumatizzare i tessuti abbiamo necessità di un ecotransesofageo permanentemente in sala operatoria i colleghi cardiologi ci aiutano molto in questo è un lavoro anche in questo caso di equip vengono cannulati vedete dall'inguine questa è la piega inguinale introduciamo delle lunghe cannule che arrivano fino al cuore in quel caso è possibile fermare il cuore con un pallone che gonfiamo all'interno della orta e a cuore fermo vedete col controllo ecografico introduciamo questa che è una cannula per la circolazione estracorporea e questo palloncino che gonfiamo in aorta ascendente e che ci consente di fermare il cuore qui è pur sempre necessaria una circolazione estracorporea è vero però questo ci consente di fare l'intervento di riparazione valvolare in toracoscopia e senza aprire lo sterno qui vedete come facciamo mettiamo in trazione dei punti di sutura e a un certo punto questo è il momento più delicato prepariamo il cuore per essere fermato vedete il cuore batte ancora a un certo punto gonfieremo il palloncino e inietteremo nella radice ortica qui lo vedete questo è il palloncino che viene gonfiato nella radice ortica e queste bolle che vedete sono la cardioplegia una soluzione che arresta il cuore per qualche un'ora un'ora e mezza il tempo necessario per eseguire vedete il cuore si è fermato a questo punto si apre sempre sotto visione toracoscopica all'atrio sinistro ed ecco che con questo piccolo divaricatore mettiamo in evidenza la valvola e lì inizia il lavoro di riparazione vedete che il cuore è perfettamente fermo esangue eccolo qui la valvola si intravede e poi la ripariamo che cosa è successo anche in questi casi però abbiamo dei pazienti che non tollerano la circolazione sacorporea per questo in caso di prolasso valvolare abbiamo iniziato proprio qui a Torino qualche anno fa questa esperienza utilizzando dei device questo è un device una specie di è una pesca come dice il professor Gaita è un device che ha una pinza sulla punta con della luce nell'ambito degli infrarossi che si manifesta su queste spie luminose questa questa una specie questa specie di pinza consente anzi andiamo al filmato che è molto chiaro consente di che è qua consente di trattare a cuore battente anche quei pazienti che non tollererebbero la circolazione sacorporea questa è la nostra valvola questo è un prolasso vedete l'insufficienza da prolasso di un lembo posteriore qui si vede all'eco un'enorme insufficienza facciamo un'incisione questa volta nel quarto spazio intercostale però a sinistra e accediamo all'apice del cuore questo è l'apice del cuore vedete l'incisione questo è il capezzolo è un'incisione di poco più di 4 cm vedete facciamo sul cuore una 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 borsa di tabacco che consente di introdurre lo strumento intronciamo lo strumento sotto visione sempre ecografica e questo strumento ci consentirà dall'apice vedete qui lo sto introducendo faccio un piccolo colpo di bisturi vedete si tiene chiuso col dito poi si introduce questo strumento questo strumento sale nel ventricolo qui si un ecotransesofageo 3D real time che ci consente di vedete la pinza viene aperta agganciamo questa è una procedura molto sofisticata solo solo all'apparenza semplice richiede l'integrazione vedete fin quando abbiamo una la certezza di avere graspato il punto giusto della valvola e questa è la parte difficile in cui abbiamo bisogno un eco real time poi introduciamo una specie di arpione che aggancia un filo ingoretex e posizioniamo 3-4 corde nella zona del prolasso della valvola questo consente di riparare queste valvole anche in pazienti molto anziani e con grande comorbidità questo è quello che appare questo è un caso che abbiamo rioperato per altro motivo vedete una corda tendina di fianco messa trans apicale a cuore battente di fianco a due corde a due corde rotte che erano le sue native rotte siamo stati antessiliani in questo questo è il lavoro con cui questa ha ottenuto il marchio CE insieme col gruppo del San Raffaele qui in Italia siamo stati i primi ad applicarlo e questa è un'esperienza molto promettente che ci consentirà di trattare pazienti sempre più anziani anche affetti da prolasso della valvola mitralica grazie dell'attenzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti di farlo diventare di farlo diventare ottimo e stare nei tempi tra virgolette a quelle che sono le esigenze di questa popolazione credo che sia la più grande missione che si possa fare nell'ambito cardiochirurgico la materia cardiovascolare richiede professionisti che si dedicano e Mauro è uno di questi Fiorenzo è uno di questi cerchiamo tra virgolette di dare il meglio a quello che la nostra popolazione necessita adesso ci sono parecchie domande dunque direi di cominciare ci sono alcune che sono un po' generali me le me le prendo io però comincerei vuoi cominciare tu Fiorenzo perché hai una serie piuttosto robusta di domande la prima domanda era dopo la TAVI come si comporta la valvola ortica originale viene schiacciata contro la parete della orta e quindi all'interno c'è questa valvola che noi abbiamo introdotto con un catetere per cui la valvola il risultato finale è una valvola di pochi millimetri più piccola rispetto a quella originale ma sana di gran lunga invece più grande rispetto alla valvola che è stata rotta e schiacciata contro la parete e questa è proprio la differenza che cercava di farci che ci ha fatto vedere molto bene il professor Rinaldi cioè dov'è la differenza tra quell'approccio sulla orta con il suo intervento mini invasivo e le nuove valvole e quello invece è fatto per via percutanea il professor Rinaldi può usare delle forbici e quindi portare via la valvola originale estenotica e poi introduce attraverso questi micro approcci questi micro taglio che fa una nuova valvola che si autoespande molto simile a quella che introduciamo per via percutanea sono due soluzioni molto vicine l'una all'altra ognuna ha le sue precise indicazioni e proprio per questo serve l'artim per scegliere a secondo del paziente che tipo di approccio fare i vari interventi illustrati sono tutti possibili o vanno modificati in pazienti portatori di pesmeca sono tutti possibili anche nei pazienti portatori di pesmeca quindi un portatore di pesmeca non ha limitazione eventualmente a nessuna delle procedure che abbiamo prima mostrato l'impianto valvolare transcatettere ma soprattutto l'impianto di click può migrare in tutti gli interventi ci possono essere delle complicazioni la clips rarissimamente può migrare se migra bisogna andarla a ripescare ci sono vari sistemi per poterla ripescare che vanno da lacci particolari introdotti per via percutanea ma più spesso invece con l'intervento cardio-chirurgico per fortuna è una cosa molto rara vado avanti io corrispondo a tutte o ci fermiamo un po' vado avanti mi è stata diagnosticata un blocco di branca sinistra di che cosa si tratta esattamente in attesa di una scintigrafia cosa posso fare o non fare cosa mi può succedere quali terapie per trattare tra la patologia una seconda domanda sempre sullo stesso argomento che cos'è il blocco di branca sinistra e quali sono le conseguenze qual è la prevenzione sono due momenti simili partirei da questa seconda il cuore abbiamo visto formato da una macchina una pompa vera e propria della parte muscolare da delle valvole che ne determinano il passaggio del sangue nelle diverse quattro cavità e poi da un vero e proprio impianto elettrico l'impianto elettrico è costituito da una batteria che chiamiamo un nodo del seno posta nell'atrio di destra da una centralina che impedisce al cuore di battere oltre una certa velocità che si chiama nodo atrio ventricolare e poi due filini elettrici in realtà sono tre ma grossolanamente diciamo due uno che si chiama branca destra che porta l'impulso elettrico al ventricolo di destra al cuore di destra e l'altra branca di sinistra che porta dall'impulso al cuore di sinistra la branca di sinistra è quella più spessa in realtà è costituita da due filini che si chiamano filino anteriore e filino posteriore per vivere e vivere bene basta un solo filo l'ingegnere capo il buon dio per chi come me crede è una persona estremamente intelligente e ha previsto di aiutare i signori portatori di bronco di branca destra che sono tantissimi anche i giovani sportivi e i signori portatori di blocco di branca sinistro che sono di meno e di solito un po' più anziani a sopravvivere lo stesso grazie all'altro filo certo se si ammala la branca destra che è una sola e me ne rimangono altre due a sinistra la probabilità di aver bisogno di qualcosa nel futuro più o meno lungo è molto bassa se invece su tre filini ne ho due ammalati il blocco di branca sinistra devo stare attento perché mi rimane solo la ruota di scorta che è la branca destra c'è della prevenzione mi chiedono no sì c'è la prevenzione generale che è quella di curare bene la pressione di tenere la glicemia bassa di curare bene il colesterolo ma la devo monitorizzare con che cosa sia con valutanti i sintomi se anche la branca destra in presenza di blocco di branca sinistra non dovesse funzionare non arriva impulso elettrico al cuore il cuore per un po' si inceppa si ferma e questo che cosa dà? da svenimento quindi se arriva allo svenimento dovrò provvedere come si provvede? si provvede impiantando un filo esterno nuovo che si chiama collegato ad un apparecchio che si chiama pacemaker e questa è una delle cause principali di impianto di pacemaker nei soggetti over 85 anni che rappresentano circa il 5% anche in questo caso della popolazione generale le due domande però sono un po' diverse perché la seconda mi fa pensare che quello che mi dice mi è stata richiesta una scintigrafia il medico ha la signora la signora Anna che mi fa questa domanda deve aver sospettato un'altra cosa deve aver sospettato che ci fossero anche le coronarie cioè i tubicini che portano il sangue al cuore non perfettamente funzionanti purtroppo in presenza di blocco di branca sinistra la metodica più semplice che mi dà le maggiori informazioni anche sul flusso del sangue che è l'elettrocardiogramma eventualmente l'elettrocardiogramma sotto sforzo non è più interpretabile perché l'elettrocardiogramma è alterato è modificato dal blocco di branca sinistra e non posso vedere con una banale prova da sforzo se c'è poco sangue che arriva al cuore noi lo chiamiamo ischemia da sforzo allora in questo caso per capire se questo c'è o no ci sono due metodiche una metodica meno invasiva che la scintigrafia cardiaca che è quella che è stata consigliata alla signora Anna una metodica leggermente più invasiva ma oggi anche molto rapida la prima è fatta dal medico nucleare quella di cui vi parlo adesso invece è la banale coronografia fatta da noi cardiologi che permette di capire se oltre al blocco di branca sinistra ci sono anche le coronarie malate però sono due cose profondamente diverse spero di aver risposto a tutti e due 67enne buona saluta donna sono da sempre bradicardica da giovane ho sofferto di svenimenti ora non più i battiti a riposo sono 62 al minuto pressione arteriosa 120-80 rischio nel futuro di malattie meglio di lei non c'è nessuno avere il cuore che batta a 60 al minuto pressione 120-80 non faccio cambio con lei solo perché anch'io ho la stessa situazione svenivo da bambino quando vedevo il sangue poi ho fatto il cardiologo ho per mia fortuna il cuore che batte a 55-60 al minuto o la batto perché la mia pressione massima è 105-70 quindi forse se non mi stresso troppo potrei vivere anche più di lei quindi complimento grazie ho avuto un aumento del battito sono in terapia con congescorro dalla menopausa con il passare del tempo rischio qualcosa di di più grave non solo età perché non è mai solo età avere un aumento del battito è un qualcosa di abbastanza fisiologico con l'età e fino a un certo punto per realtà il battito comincia ad abbassarsi non so se solo per questo o meno il suo medico le ha prescritto un beta bloccante è sicuramente un cardiologo perché noi cardiologi amiamo i beta bloccanti amiamo i beta bloccanti perché perché riducono il battito cardiaco esiste un assunto in natura che vale per tutto tranne che per l'uomo che più è basso il numero di battiti più si vive a lungo per portare questo esempio per portare dar forza a questa affermazione l'esempio che noi portiamo più che io porto più frequentemente il colibri è un animalino simpaticissimo che ha il cuore che batta 600 battiti al minuto e vive 6 mesi la tartaruga è più lenta altrettanto simpatica al cuore che batta 45 battiti al minuto e vive 90 anni esiste una chiara correlazione tra il numero di battiti e età media vale per tutte le specie animali non proprio per l'uomo perché nell'uomo a seconda del nostro battito che dovrebbe essere a riposo di circa 60 battiti al minuto dovremmo avere una vita media intorno a 60 65 il dottor Mara ci ha dimostrato come invece tutto cambiato era così fino a 60 70 anni fa e così dopo 30 anni sono tornato alle Maldive ho detto qui il paradiso terrestre perché non ci sono venuto più per 30 anni ho detto il paradiso terrestre quindi qui la vita deve essere molto molto lunga ho provato a chiedere a vedere ritornando a Torino qual era la vita media alle Maldive ed è di 65 anni cioè quella naturale questo che cosa dimostra che non basta vivere nel paradiso terrestre per vivere a lungo questo è chiaro che è una visione di parte dimostra che in qualche maniera noi medici serviamo con la prevenzione con le cure ed è questo che spiega perché la vita media oggi con l'alimentazione perché questo ci accomuna ai giapponesi che facendo prevenzione con l'alimentazione adeguata e con le cure adeguate permettetemi di spendere ancora una parola a favore del sistema sanitario nazionale italiano è l'unico sistema che ci permette di curarci tutto e non è così nel resto del mondo la vita media è estremamente più alta ultima domanda la vena giugolare destra se ostruita di qualche millimetro può causare svenimento non so se sta parlando di vena spero giugolare quindi una vena si può cadere per mancanza di ossigeno al cervello assolutamente no viva serena non dà questo tipo non so se un maschio o una femmina 67 anni in buona salute continuerà a stare in buona salute non si preoccupi per questo al massimo farà un ecodoppler per controllarlo della vena per controllarlo nel tempo e con questo ho finito tutte le mie domande grazie grazie a Fiorenza adesso vediamo le risposte del nostro professor Rinaldi a sbocco più tra virgolette invasivo più chirurgico sì allora iniziamo da una signora che mi chiede ha avuto una sostituzione valvolare mitralica nel 2015 e mi chiede quale possa essere la durata di questa valvola se avrà ancora difficoltà di respirazione da qui in poi allora questo non l'abbiamo detto queste valvole che avete visto sia suture che sutured tutti i tipi che vi ho mostrato sono valvole biologiche le valvole biologiche sono fatte avete visto quei foglietti che vi ho mostrato sono fatte in genere da pericardio bovino oppure sono valvole native di maiale montate su una su una uno stent ecco queste valvole per definizione sono molto molto buone perché perché sono molto tollerate il noto sangue a contatto di queste valvole non si rapprende non coagula quindi di fatto è possibile utilizzare queste valvole ed evitare la anticoagulazione che è una cosa soprattutto in età molto avanzata che non sempre va benissimo ci possono essere dei problemi con il cuba con l'anticoagulante richiede dei prelevi di controllo bisogna sempre tenere sotto la dieta a posto per evitare sbalzi eccetera queste valvole non hanno bisogno di questa di questo anticoagulante quindi in questo danno un enorme vantaggio soprattutto nella popolazione più in là qual è il loro limite il loro limite rispetto alle valvole meccaniche che in genere usiamo nelle pazienti più giovani molto più giovani il loro limite è che degenerano con il tempo cioè c'è un processo di calcificazione di questo pericardio che lentamente diventa rigido e quindi questa valvola ha una certa durata durabilità diciamo che al di sopra dei 60 65 anni però e siamo di fronte anche in questo caso a un miglioramento enorme negli ultimi anni di questa cosa questo pericardio dura almeno 15 anni 15-20 anni a seconda dei casi quindi diciamo che in pazienti sopra i 70 anni sicuramente raramente è necessario reintervenire su queste valvole qualora invece utilizzassimo queste valvole in pazienti al di sotto dei 60 anni chiaramente bisogna mettere in preventivo un reintervento o ancora meglio forse più che un vero reintervento in futuro un reintervento magari a torace chiuso con una valvola transcatetere oggi si parla molto di questa tecnica cioè di anticipare l'utilizzo delle valvole biologiche anche in pazienti di 50 60 anni gli diamo 15-20 anni di buono con questa valvola e poi successivamente con una valvola transcatetere introdotta come vi ho fatto vedere il professor Gaeta si completa questa procedura con una virtuale seconda fase che porta fino al termine naturale della vita ok quindi direi è una valvola sostituita nel 2015 ha buoni 20 anni 15-20 anni di vita non è detto che non sarà necessario un reintervento però diciamo è poco probabile questa è la prima domanda la seconda domanda parla di una problematica che spesso è associata alla stenosia ortica o anche all'insufficienza che è la dilatazione dell'orta ascendente cioè la neurisma aortico mi si chiede ectasia della orta ascendente 40 mm a 65 anni quale è l'evoluzione c'è la dissecazione aortica dietro l'angolo no stia tranquillo 40 mm siamo ancora in termini estremamente ragionevoli tenete conto che queste dilatazioni diventano pericolose quando si avvicini in realtà quando superano i 50 mm quindi qui siamo un centimetro al di sotto a 65 anni ci si può aspettare un incremento nel corso dell'età basta fare una regolare ecografia io consiglio una volta all'anno e quando qualora questo diametro superi i 47 48 50 a quel punto sono sicuramente di interesse chirurgico perché a quel punto il rischio di sezione aortica sale in maniera esponenziale al di là dei 50 55 fino ai 50 però direi che si può stare relativamente tranquilli un'altra domanda riguarda una paziente o un paziente operato di mixoma triale dell'altro sinistro nel 2007 chiede se potrebbe affrontare a 77 anni chiede se potrebbe affrontare un intervento della valvola ortica assolutamente sì questo mixoma oggi anche questi interventi non l'ho citato nella mia relazione anche a questi interventi tenete conto che questa signora o signore è stato operato nel 2007 però oggi anche questi interventi di mixomi possono essere eseguiti attraverso procedure toracoscopiche e quindi in particolare se è stata fatta attraverso questa procedura assolutamente sì la valvola ortica può essere sostituita in qualsiasi modo infine anzi no due domande ancora una sui sintomi di insufficienza mitralica ecco non l'ha detto nessuno di noi l'ha detto né io né il professor Gaeta i sintomi sostanzialmente c'è un sintomo caratteristico che è a un certo punto la mancanza di fiato questo accomuna direi la stenosi aortica con l'insufficienza mitralica nel caso dell'insufficienza mitralica questa questa dispnea cosiddetta interviene in fase in genere abbastanza avanzata nel caso di insufficienza mitralica ci sono anche tutta un'altra serie di problematiche tipo delle aritvie soprattutto atriali sopraventricolari e mi chiede la stessa persona se si può evitare l'intervento in caso di prolasso di uno dei lembi dunque in genere quando prolassa un lembo da rottura di una corda tendina si chiama flail in genere l'insufficienza è almeno moderata se non moderato severa quindi quando c'è la rottura di una corda in genere l'insufficienza è di una gravità tale che prima o poi l'intervento andrebbe fatto e in genere è meglio farlo prima che i sintomi diventino eclatanti prima che comincino a subentrare quelle aritmie che poi dopo rendono più complessa la gestione post-operatoria tipo una fibrillazione atreale che poi va blata eccetera quindi sicuramente quando si è in presenza un'insufficienza metallica severa da flail o da rottura di uno delle corde di uno dei due lembi probabilmente è quasi sempre indicato l'intervento e infine c'è un caso da Artim che io chiedo anche al professor Gaita una giovane di 31 anni in gravidanza alla ventunesima settimana ha una stenosi mitralica su base reumatica area funzionale circa 1,1 cm2 prima della gravidanza era 1,5 quindi era una stenosi lieve adesso è un po' più che lieve anzi è 1,1 atrio sinistro dilatato 46 ml per metro quadro vena cava inferiore 16 mm normo collabente iniziato beta boccante selo che in 100 mg quale complicazioni può avere lei o la bambina che aspetta ci sono pericoli di vita Lorenzo bisogna vedere come sta la paziente è una valvola ristretta in un momento in cui viene richiesto un sovraccarico a livello del cuore dal punto di vista lavorativo di circa il 30% normalmente ha delle probabilità abbastanza alte del 80% di poter portare a termine la gravidanza senza grossi problemi né per lei né per il bambino però va seguita va seguita mensilmente perché perché se invece la richiesta di sangue fosse tale per cui la stenosi mitralica è tale da non far passare il sangue sufficiente c'è una metodica tra virgolette palliativa che possiamo fare in attesa poi di rivedere la paziente successivamente ed è quella che è la valvoloplastica transcateter cioè si può introdurre che mese di gravidanza è? è al 21esima settimana 21esima settimana si può fare anche con i sistemi che abbiamo oggi con fluoroscopia vicino allo zero quindi si può in realtà mettere un catetere a palloncino nella vena della gamba entrare fino nel latro di destra fare la stessa cosa che si fa per la mitral clip una piccola puntura nel setto interatriale far passare questo catetere all'interno di questa valvola ristretta e gonfiarlo è un intervento a rischio relativamente basso ma non rischio zero ma che permetterebbe sicuramente in presenza di comparsa di sintomi di permettere di portare a termine la gravidanza e poi riaffidarla eventualmente in secondo tempo al professor Rinaldi per l'intervento chirurgico condivido pienamente allora adesso abbiamo ancora tre domande di tipo più se volete generalistico allora un ottantenne dice camminare a lungo può essere valido per il mio per la mia salute muoversi anche se poi dopo le passeggiate mi sento le caviglie che sono un po' delenti assolutamente sì anzi in età sempre più avanzata è consigliabile sempre di più lubrificare il sistema chiamiamolo osseo muscolare che fa bene anche alle arterie e fa bene allo spirito altra domanda di un 69enne che dice di avere tre valvoli con insufficienza lieve temo che sia cosiddetta problematica di tipo ecografica più che una patologia vera quando sono stanco nervoso oppure mi sento girato nel letto a sinistra sento qualche extrasistore batti regolarmente cosa mi posso aspettare io credo che questo signore qui debba semplicemente rivolgere al suo medico di famiglia per valutare se magari la sua pressione non tende un pochettino a salire se forse sovrappeso cioè questi battiti regolari possono avesse parecchie problematiche 69 anni non credo che sia un problema di valvole di per sé e comunque ogni anno fare un eco e vedere un attimo come si comporta poi c'è una domanda molto come dire ampia un signore di 66 anni dice quale esame posso fare per verificare lo stato di salute del mio cuore e delle mie arterie valvole comprese beh allora questo è un discorso che si attaglia a tutti e questo è in fondo il motivo per cui ci ritroviamo qua creare informazione fare tra virgolette consapevolezza nelle persone in modo che abbiano idea di come gestirsi con l'aiuto dei propri medici e magari con degli esami giusti io credo che questo signore qua visto che ha 66 anni un piccolo check che può essere proposto dal suo medico di famiglia sul doppio carotideo sull'ecocardiogramma valutazione pressoria una pressione metabolica abbastanza semplice con degli esami possa avere le idee abbastanza chiare di come sono le sue condizioni generali direi che sono esami semplici e comunque io ricordo sempre una cosa sono i sintomi che devono sempre suscitare interesse nella gente non sottovalutateli per carità non spaventateli ma neanche sottovalutateli discutete con questo medico di famiglia e poi eventualmente approcciate verso degli esami tra virgolette di vario grado per fare una conclusione positiva su quanto ha detto il professor Rinaldi io ho una paziente che ha 53 anni 22 anni fa ha messo una valvola biologica mitralica perché allora usava così tuttora questa valvola funziona benissimo incredibilmente bene quindi è molto incoraggiante vedere come il progresso tecnologico oltre che la bravura dei chirurghi ci sta aiutando nel far sì che quello che facciamo ha una durata e un esito in termini di vita vissuta bene non solo di essere vivi tra virgolette io vi ringrazio ancora tutti chiudiamo questa sessione ringraziamo ancora la San Paolo e il Sanitas per aver avuto sponsorizzazione per poter fare questa cosa e vi auguro di vedervi presto di nuovo in quest'aula grazie grazie a voi medici e grazie soprattutto alla Sanitax che ci ha permesso questa conferenza grazie ancora e a martedì grazie a voi grazie a voi